buonasera a tutti buonasera buonasera a tutti ecco diana ci siamo appena connessi oggi gianni gianni armana conosciuti qualche settimana fa qui a viso rufanti con drink a ciao ciao a tutti ciao ciao cristiano ciao a tutti benvenuti e buonasera buonasera beh magari poi arriverà ancora qualcuno ma vediamo hai voluto fare risposte oggi ma sì allora abbiamo abbiamo già fatto qualche puntata non parlando di questo posto magico di questo progetto a lungo termine anche di creare una comunità e quindi io continuo a fare questi viaggi e invitare ovviamente perché qua bisognava veramente scoprirlo con le proprie ma con tutti i propri sensi diciamo e vedo sempre che comunque il passo di essere qua via dei processi quindi quello resta resta una una base solida magari riassumendo un po' per chi non è ancora stato ma qui penso che a parte rufanti che non ha ancora messo il piede proprio sul posto e te cristiano fisicamente sono passato ma non non sono mai andato lì cioè l'ho visto l'aventano è qualcosa no esserci anche se si hanno già delle belle aspettative magari quando si decide di partire però poi esserci veramente vedo che come diceva oggi un amico che è qua da 2005 viene tutti gli anni del 2005 e dice non ho mai visto qui persone che si che litigano che si comportano male non ho mai visto succedere cose brutte e dice questo è proprio è qualcosa e lui lo dice da esperto essendo che viene dal 2005 interessante energeticamente è un posto bello ma poi anche la natura l'ambiente la pace il silenzio la comodità comunque all'italia all'occidente alla modernità se vai sulla costa vedi le cose turistiche cioè sei vicino a tutto ma sei in un posto magico io andando a Sarajevo vabbè Sarajevo già è città però lì vicino sulle sulle alture ho dormito nei campi con la tenda perché vi avevo fatto il viaggio in macchina l'ultima volta che ci sono andato ci sono andato sette volte in quelle zone e abbiamo dormito in macchina poi vabbè abbiamo visto sto posto abbiamo detto qua necessita merita di starci almeno due tre settimane se ci si va e allora ha detto poi facciamo un'altra volta e poi vabbè sono passati sette anni perché sono andato in un'altra parte del mondo però va bene ci andrò e per adesso ci sei tu che fai anche le mie veci e d'altronde a parlarne parlarne vedere video ma meglio che andare lì in presenza chi può farsi dieci giorni in una settimana è solo che salute sì adesso c'è appena stata una conferenza una settimana o forse anche di più di conferenze vabbè io ho partecipato solo cioè sono arrivata l'ultimo giorno se vogliamo quindi non ho partecipato però ho visto che Diana ha partecipato e ha condiviso sul suo facebook diverse cose su queste conferenze io ho avuto l'occasione di conoscere all'ultimo giorno alcuni scienziati ed è stato molto interessante perché poi ho partecipato ho fatto un po' di misurazioni all'interno dei tunnel ed è stato molto bello perché vivi proprio quella sensazione poi con gli scienziati che il ragazzo che continuava a dire è impossibile non ho mai visto qualcosa del genere potrei continuare a misurare per una vita e sì ci sono dei dati veramente particolari proprio a livello di vibrazioni e di frequenze che già a raccoglierli bisognerebbe raccoglierli costantemente tanti su un lungo termine e poi cominciare a fare delle ti riferisci alla scala bouvier delle misurazioni? allora lo stavo usando no non mi sa di no cos'è che stavo usando non mi ricordo neanche bene perché usava diverse scale comunque cercava le frequenze no dai sì c'è un cane che sta se è salito sulla panchina sì ti voglio bene anch'io però è salito proprio sulla panchina ok prende delle libertà dopo sono felici qua i cani sono tutti liberi e li coccolano tutti no è bello perché appunto c'è proprio tanta voglia di scoprire ognuno porta la sua anche quello che sa fare e quindi c'è un momento in cui c'è una grande vivacità anche a livello di ricerca perché è chiaramente multidisciplinare cioè si possono incontrare tutte le discipline e questo è veramente molto bello puoi fare delle teorie e quindi anche la nostra parte di come dire indagine più psiconautica sicuramente interessante adesso tenendo un po' traccia poi tra un po' magari facciamo qualche scambio anche l'anno prossimo per dire no perché loro comunque torneranno e ognuno con le sue teorie da verificare quindi anche noi siamo benvenuti con le nostre teorie ah certo Barbara posso solo dire? sì sì grazie è stato veramente incredibile vedere questi scienziati parliamo dei fisici nucleari ingegneri ingegneri del suono della comunicazione della come si sono messi insieme a riscoprire come i bambini quando giocano insieme con una gioia con una tale sinergia energia che credo che normalmente non è così no nel mainstream in più sono tutte le conferenze questa è la settima conferenza che ho seguito ogni giorno con molta passione e tra l'altro quello che è stato bellissimo vedere che ci sono delle persone di una tale dedizione con l'anima alla ciò che è il progresso a ciò che la voglia di vedere il mondo con la free energy con la free education free healing e so on scusate e vederli canalizzare le energie sentire in quelle parole quella vibrazione è stato Gesper in particolare di Danmarca Johansson è stato un ragazzo veramente che è pazzesco con delle poi tra l'altro delle spiegazioni delle scoperte che ne vale la pena di approfondire e credo che con la Barbara le proporose lei non ha delle vediamo come io comunque ci tengo che queste informazioni siano ben apportate di tutti quello che sono le piramidi no io abito qui tra l'altro mi sono trasferita da pochi mesi e si sono apportata grazie il mio sogno sì 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 no no ma assolutamente poi ci troviamo e assolutamente ce la conteremo sì no ma assolutamente infatti anch'io ho vissuto soprattutto con Gesper appunto facendo le misurazioni perché è troppo bello essere lì quando cioè vedi le reazioni no dal vivo durante la misurazione è stato un momento veramente emozionante e hai proprio voglia di capire di scoprire sempre di più ognuno di noi è una è un ha le sue capacità e i suoi talenti e questo modalità di condividerli proprio tra diverse discipline secondo me è potentissimo perché in questo momento siamo di fronte a qualcosa che non è qualcosa che conosciamo conosciamo già quindi è qualcosa che in qualche modo per arrivare a conoscere e beh prima di tutto dobbiamo entrarci in relazione perché diventa cioè bisogna proprio costruire la relazione affinché ti cominci a parlare veramente sempre più chiaro anche il luogo ma in più è come se noi come antenne percepiamo diversi messaggi e comunicando li possiamo mettere assieme in una visione completamente nuova ma dobbiamo veramente lasciar cadere tutto quello che sappiamo già perché è oltre tutto quello che sappiamo già e questa dinamica secondo me è veramente qualcosa che ci sta chiamando ci sta veramente riunendo qua per qualche ragione e volevo aggiungere perché sì non vedo l'ora di vedere tutte le conferenze tra l'altro che mi sono persa però intanto continuo a essere qua e a raggiungere i volontari e stare lì in questi tunnel dove si sentono certamente molte energie per me quello è abbastanza chiaro è quello che riesco a percepire alcuni luoghi sono magnetici veramente o forti ma per ognuno è veramente un viaggio spettacolare ma tu Diana come posso chiederti così già live se hai voglia di parlare cosa cosa ti ha portato a trasferirti a Visoco vabbè devo dire che già la prima volta ci sono stata nel 2014 e mi ricordo un'ora un'oretta ancora di viaggio prima di arrivare a Visoco io ho sentito una tale gioia dentro espandersi il cuore che si che si espandeva e stavo letteralmente tutta tutta in questa energia che mi accompagnava e capivo che c'era qualcosa sentivo ancora l'energia ho già cominciato il mio percorso e per cui sì quello che ho vissuto ogni anno ci ritornavo ed era un'esperienza sempre più ricca per certi versi è sempre anche parte anche di un viaggio mio è un luogo di guarigione proprio di grembo materno di scoperte di connessioni con questa coscienza di questo luogo e devo dire che a me l'ha preso però poi io avevo la mia vita ho vissuto in Italia circa quasi 30 anni sono di Spalato in Croazia e dunque perché piramide perché poi trasferirmi a vivere era semplice perché poi a un certo punto no è un viaggiare un viaggiare ho vissuto da vabbè in breve Croazia poi Belgrado poi Italia poi Parigi poi di nuovo Italia e la prossima tappa dove da sud di Milano anche se c'è il fiume Lampro anche se ci sono dei parchi gli ultimi cinque anni no di Italia dopo Toscano ho vissuto a Milano è stato bellissimo anche lì e poi ho detto voglio il mare, voglio la natura, voglio la natura, soprattutto la natura perché quel mare, la natura è comunque qualcosa che mi chiamava anche lì sapevo a un certo punto si maturavano anche questa scelta non di lasciare un paese così bello come Italia gli amici eccetera e un bel giorno mi trovo a vissuto per trovare questa risposta no ed era immediata la conferma io voglio stare qui vabbè tu se sei della Croazia sei già in quella zona come energie più o meno sì, 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 sì poi hai viaggiato, hai sentito gli altri posti ma casualmente torni lì ed è una chiamata che io anch'io sento dal 2010 infatti ho cominciato ad andare in Bosnia e Herzegovina nel 2010 e l'ultima volta ci sono andato sette volte l'ultima volta è stato in auto con la fidanzata e nel 2016 ed è lì che ho detto poi ci torno, poi ci torno poi ci torniamo, poi ci torniamo poi vabbè sono andato a vivere al nord Europa però casualmente ci sta andando Barbara c'è Condorinca cioè può essere che è un po' di me già là con Barbara perché comunque con Barbara ci conosciamo da quasi sette anni una cosa così e quindi il fatto che lei sia là poi sta roba delle piramidi io la conosco dagli albori perché Rosmanagic ci siamo scritti via mail ma nel 2014 e insomma che siamo tutti chiamati un pochino ad andare là e prima o poi arrivo anch'io bellissimo esatto l'idea nostra è fare una comunità a Bisocco un ecovillaggio eh sì perché io per esempio sono arrivata quando era? 2019 o 20 adesso non mi ricordo cioè da quando ho saputo che esistevano a quando sono riuscita veramente a venire è passato tanto tempo devo ammettere ma poi è stato così volevo ritornare subito ma ci sono voluti due anni poi dopo il secondo viaggio volevo ritornare subito ma ci sono voluti due anni tant'è che da quest'anno da quando ho cominciato non riesco più a smettere e faccio avanti e indietro e questo eh sì ma è stata proprio anche una chiamata cioè è proprio anche a livello di messaggio perché è proprio un messaggio che mi arriva quello di cioè il messaggio è a parte bentornata a casa che quello che sento come quando tu racconti questa energia che senti e io sento veramente di arrivare a casa anche se non è che in questa vita abbia delle connessioni con la Bosnia ma per qualche ragione ce le ho non lo so e il fatto che io non debba venire qua da sola per quello poi l'idea di organizzare proprio dei viaggi di scoperta per chi non è mai stato qua soprattutto o chi ha bisogno di essere introdotto al luogo perché poi dopo il luogo inizia un discorso personale con ognuno non è che c'è bisogno di tanto c'è proprio solo bisogno in fondo di un'introduzione se vogliamo ecco se si vuole e anche visto che comunque tutto nella mia vita da un lato si sta chiudendo da dove sono adesso tutto è tutto è tutto si sta chiudendo lo vedo proprio e qui tutto si apre non devo non devo neanche scegliere in fondo è come se lo vedo cosa sta succedendo cioè è più prendo atto di quello che di quello che succede e quindi per questa ragione penso come tanti o perlomeno questo mio il mio effetto è stato proprio quello dopo poco ma perché non trovare qualcosa perché non essere qui conoscendo Cristiano il suo progetto di ecovillaggio o come lo hai chiamato non era era un nome più bello io sono beh comunque unione di persone con una coscienza in frequenza no coerente e e qui c'è c'è perché c'è anche tantissima energia c'è un meccanismo fantastico che non sta nemmeno lavorando al suo massimo che stiamo ri riattivando anche proprio grazie a questo lavoro e a questa presenza della scoperta della fondazione di tutto quello che ci lavora attorno di chi è chiamato perché ognuno fa il suo lavoro uno può anche non essere nella fondazione e fare il suo lavoro ma c'è questa chiamata globale e che si riscontra perché se domandi a più e più persone soprattutto tra i volontari io chiedo sempre cosa ti porta qua cosa ti porta qua cosa ti porta qua e ognuno ha la sua storia ma spesso è più che una semplice curiosità diciamo più profonda insomma che una semplice curiosità ecco i segni dell'universo sono chiari in tanta gente negli ultimi 7-10 anni 13 anni ma se vogliamo è dal 95 che c'è una chiamata a livello di di forze superiori per chi ha orecchie per sentire perché tutto quello che è capitato dal 2000 in poi dal 98 al 2001 e poi cosa c'è stato le puttanate degli ultimi cinque anni insomma è un'epurazione di chi è ancora salvabile e deve fare uno sforzo per uscire da dalla palude e cominciare a vivere in un mondo pulito e chi invece non sa paura di tutto anche volendo non può uscire perché oramai è pregiudicato da tutto quello che ha fatto prima e allora chiamata o non chiamata perché molti come abbiamo visto negli ultimi anni tra l'immobilismo la paura la voglia del nuovo però sovranità alimentazione spiritualità le religioni abbiamo capito che cosa sono il soldo che cos'è il lavoro le crisi è tutto inventato abbiamo ancora bisogno di prove ora io ho fatto il mio cambiamento nel 2009-10 tu più o meno l'hai fatto di recente ma insomma comunque sono già anni fa e tutti gli altri nel mondo come noi vedo anche gli anglofoni tanti ispanici ma gente dell'est Europa da tutte le parti io vedo che comunque tutti si emancipano a modo loro tanta gente ha aperto ecco villaggi Portogallo Grecia Albania Bulgaria più che altro quindi tanti si spostano chi va in Sud America chi va dove vanno tutti da qualche parte vanno via dal vecchio chi non lo fa rimane lì ad aspettare alla finestra ora magari noi alla soglia dei 40 anni rampanti e anche qualcosina di più non abbiamo più scuse per stare fermi allora andiamo se ci andiamo in gruppo magari ci sentiamo meno strani meno soli perché poi la prerogativa di tutti quelli che sentono sta chiamata interiore è di essere l'unico ma magari solo me magari una sensazione ma se parli di questo argomento tolti quelli che sono fanatici quelli che magari sono condizionati quelli che che magari vedono le cose su internet e si infervorano e basta però ce n'è di gente col sale in zucca che ha un passato di vita sana seria perché anche indiana se siamo gente che ha già viaggiato sale lingue conosce le altre culture non ha paura del diverso ma anzi il diverso ti attira perché ti stimola ti insegna è più facile invece la mente piccola che vive nel paesino nella città dove è nato dove il suo padre lavorava quelli non li tiri via di lì perché perché hanno paura di tutto e anche se li porti lì con la forza non se lo godono il periodo sono chiusi sono chiusi noi dobbiamo aprirci ma aprirci con giudizio perché se ci apriamo nei posti sbagliati ci facciamo male se ci apriamo troppo è facile che fai il passo più lungo della gamba e devi aprire per gradi lo stesso Luca Luca con l'orica cosa ha sempre detto lui ha sentito la chiamata anni fa ha cominciato a andare per gradi ora tutti gli anni va lì e ci sta molto tempo ed è diventato praticamente la prolocco e gli darà qualcosa perché è diventato un membro della comunità e fa proseliti e fa quello che tutti fanno quando trovano una sorgente di nutrimento per qualcosa che va oltre il materiale perché lì comunque uno può crearsi un'attività può fare turismo può vivere di pensione se ce l'ha l'est Europa costa poca poca burocrazia il clima è buono non ci sono scuse ma devi sentirla chiamata se no sei fuori posto e le cose la magia non funziona ciao Cristiano ciao a tutti e parlando di magia come diceva Diana tutti i viaggi che fai quando rivieni e rivieni ti dici ma smetterà no non smette mai tutti i giorni quasi tutti i secondi qualcosa di sempre più alto per me è tre giorni ora che ho smesso di mangiare il mio corpo non vuole più prendere nulla solo acqua e domani smetto di fumare dopo quasi 33 anni di fumo da sigaretta parlo e anche quell'altro è smesso da tanto ma non smette mai e dunque anche lì tutte le frequenze si alzano tutti si aprono e e poi ti trasformi penso che per trasformarsi fisicamente anche per accettare di più ma è qualcosa di grosso qua qualcosa di grosso qualunque cosa ti sprona un cambiamento in meglio necessita merita la nostra attenzione necessita di essere coadiuvato se ti fa adesso adesso magari poi non so se diventerai un bretteriano a breve però tanto ti fa fare una digiunata ti fa togliere un vizio brutto come tutti i vizi sono brutti ma la sigaretta è anche pericolosa vedrai che che sentirai ancora di più sarai ancora più pulito come canale eh eh sì è quello sono messaggi ricevuti la sigaretta finisce domani e lì è tre giorni e vedrò quanto tempo quanto tempo dura questo non lo so non lo so è così è così se non tutto a posto sì fra poco vado in Francia a fare tutte una passeggiata su Rennes-le-Château Tignes Saint-Marie-la-Bome tutta la roba a Qatar sono posti che come tanti posti bisogna passarci per fare attivazione nel tuo fisico col posto ricevere nuovi codici guardare se si possano aprire o no delle delle parti dunque sono cose che arrivano penso alla metà ottobre il 20 ottobre quando avrò fatto questo giro in Francia eh saranno ancora informazioni in più e in più tutti i viaggi che che siamo qua e per fare scoprire Visocco con Amaia e tutti quelli che vogliono venire scoprire Visocco e via smetto di parlare perché mi cambia anche la voce ora stai trasdantando una grossa transmute una grossa è già 15 giorni che non smetto di no dormo ma la faccio piano piano è è un nuovo passo è un nuovo passo stai rinascendo va bene va bene tienici aggiornati con piacere io ho dimenticato di cambiare il nome qua ma non ho ancora cambiato dappertutto adesso ve lo cambio così ciao a tutti forse magari buonasera non so se mi riuscite a sentire perché non ho una gran linea ti sentiamo e ti vediamo perfetto mi chiamo Gianni e ho conosciuto Amaya lì a Visoco è stato un vero piacere perché io Visoco diciamo così l'ho puntato da un anno cioè ho cercato di capirlo da lontano poi dopo quando mi sono avvicinato ho visto che è un ambiente una vita è un luogo molto molto particolare a prescindere da tutto quello che c'è intorno la cordialità le amicizie la cordialità soprattutto delle persone diciamo anche nella loro spontaneità ma un luogo particolare per via di queste energie che io diciamo ho la fortuna di sentirle un po' più da vicino per via delle mani e così via e ho ho vissuto un momento molto particolare perché rappresentare l'energia non è facile però sentirsi avvolto da qualcosa che ti fa stare bene e che ti quasi alleggerisce è una roba spettacolare proprio unica e in alcuni punti c'era davvero come quasi da stringere la mano a qualcuno e rappresentare diciamo così le energie per quello che sento io è come guardare uno zucchero filato enorme che si avvolge e si stira e non in tutti i momenti è uguale ci sono alcuni momenti che si concentra e magari diventano anche due tipo due palle una su una giù che tu te le senti girare quasi vicino e poi spariscono perché vanno via però quelle che vanno via in realtà vengono subito immediatamente diciamo così ecco raggiunte da altre che ti stanno intorno è qualcosa di unico è come stare dentro tante in un ambiente dove ci sono delle persone che non vedi e che ti vogliono bene che ti stanno vicino è qualcosa di davvero di particolare ecco ma tutto l'ambiente è bello davvero molto 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 bello sì per 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 gli altri spiego che comunque ci siamo conosciuti alla macchinetta del caffè sì e il giorno dopo abbiamo fatto una passeggiata nel parco Gianni Germana è stato molto bello perché poi anche è una bella occasione condividere le percezioni come dicevamo prima ognuno ha un'antenna e un proprio modo di percepire però dopo quando le condividi poi diventa chiaro dove collassano in una realtà condivisa e questo è molto è molto bello perché anche è anche lì dove inizia a crearsi a solidificarsi anche una realtà condivisibile nel diciamo che come la percepisco io ultimamente è che quando riconosci la verità o quello qualcosa che è che è lì che vuole essere riconosciuto è come se acquisisce forza anche nel manifestarsi e quindi è un importante lavoro questo sembra un lavoro magari non abbiamo tenuto traccia un diario abbiamo fatto una conferenza però di fatto ogni volta che tu vai in un luogo e riconosci quello che è stai comunque interagendo non è non è per nulla che noi andiamo camminiamo ci troviamo e dichiariamo apertamente che cosa sta succedendo questo serve a noi serve al luogo serve all'energia stessa questo secondo me è molto potente anche se non fa un gran tantam a livello social televisivo o cose del genere però devo proprio sottolineare di quanto sia importante una cosa così semplice che fa parte della vita in fondo se gli dedichi attenzione nutri quella cosa e apri la tua password la dai a quella cosa per comunicare con te quindi c'è uno scambio e laddove l'energia circola per te sicuramente c'è un avanzamento gli altri magari non hanno la connessione come te ma vedendo te che migliori che evolvi che cambi saranno incuriositi a tratti e magari stimolati indirettamente anche loro a sintonizzarsi un po' meglio poi non è che tutti devono essere connessi all'energia di misoco ci saranno quelli che sono connessi ad andare non lo so in altri posti perché posti geopatici con questi fonti generatrici di energia ce ne è tanti nel mondo e sono sarebbe superfluo parlare dei posti blasonati dal sistema come l'urbe fatima posti del genere perché stone age e quel che sono posti di turismo energetico più o meno da credenti e anche se ci fosse qualcosa è comunque oramai anche un po' attempato e direi che il miracolo non l'ho fatto finora perché non mi risulta che stone age abbia chissà che cambiato la vita qualcuno o tanto meno gli altri posti dove ci vanno malati io conosco tre individui che nella vita sono andati in quei posti per guarire sono andati sani e sono tornati malmessi cosa incredibile perché capitano anche le condizioni da ridere però noi che stiamo facendo quello che stiamo facendo con la delicatezza che può essere colta solo dall'orecchio di e interessato all'argomento non mettiamo i manifesti non andiamo in giro con i vestiti strani o diciamo che gli alieni stanno arrivando i fratelli cosmici le cose le diciamo le sappiamo le sentiamo le parole non possono descrivere quello che stiamo facendo come vita e tu sai bene che anche io nel mio piccolo dimostro stimolo anche a diventare se stessi come professione e quando ascolto magari appunto le testimonianze di gente mediana condorinca come mi ha detto mi ricordo che la gente che ha poi fatto il passo di accettare il cambiamento che l'universo ti stimolava a fare lo ha fatto perché era già gente diciamo di mondo che ha avuto un'elasticità mentale allenata negli anni nessuno che è statico fa il grande salto e passa ad essere un umano standard ad andare a vivere in un posto energeticamente potente se lo fanno sono fanatici sono infororati dal momento dall'entusiasmo da qualche ed uno che li galvanizza ma non durano la media è due tre quattro anni poi sbarellano e questo ovviamente la gente che finisce anche nelle sette ha questo questo invegendamento generale vabbè comunque tutte cose che sentiamo perché siamo sicuramente predisposti curiosità mia Gianni tu dice che hai sentito tramite le mani ti intendi di pranoterapia o di rabdomanzia come hai sentito questa queste energie telluriche io ho un forte magnetismo e quindi riesco a sentirlo con gli occhi e con le mani e poi rispondo anche a quello che dicevi prima sul fatto che le persone molte volte vanno che stanno bene e poi tornano che stanno male stanno apparentemente bene perché se tornano che stanno male è perché stavano male prima e poi il male che viene fuori serve per poi stare bene quindi la trasformazione si fa con la consapevolezza e l'energia se in questi luoghi senti che l'energia ti gira dentro non è soltanto fuori ma te la senti dentro e le persone tirano fuori quello che in realtà quei blocchi o quelle condizioni che hanno diciamo così nel corso del tempo tenuto dentro e fatto fatto sì che diventassero una consuetudine ma poi in realtà stando lì ti accorgi che non lo è perché ti tirano fuori i problemi e poi li devi risolvere il cambiamento implica che tu rimuovi gli ostacoli che lasciandoli lì per molti decenni ci sei abituato ma quella roba non ci deve essere con quella roba ancora nella vita tu non vai oltre molta gente ha paura degli stimoli di provare di sentire perché poi dice poi devo cambiare la mia vita perché nel momento che poi tocchi con mano nel senso energetico chi ha sogni visioni chi come Amaya sente c'è i segnali che la portano lì poi non puoi più far finta di niente rimanere dove eri prima e dire no no quelle cose non fanno per me perché perché non puoi più e allora capisco capisco il cambiamento che è imposto dall'evoluzione dal destino certo l'evoluzione conta molto perché noi stiamo andando verso qualcosa che non va bene e quindi dobbiamo cercare di non dico tornare indietro ma riconoscere quello che realmente dovremmo essere e dobbiamo diventare cioè degli esseri umani consapevoli del fatto che non siamo delle macchine e quindi ci dobbiamo in qualche maniera integrare in una in una situazione in un ambiente in una condizione che ci porta a essere ancora noi stessi come umani non come macchine sì sì la disumanizzazione della forma di vita manoide che è la nostra specie è manifesta ma sono duemila anni e rotti diciamo cinquemila dal neolitico ma ultimamente il superfluo ha sopassato infinitamente l'essenziale e quindi noi che ancora abbiamo un retaggio ancestrale che ci ci collega a delle ragioni valide per cui abbiamo scelto e meritato di avere l'esperienza in forma amana in quest'epoca ci ricorda che non siamo qui per fare le file per guardare cosa ci dice uno schermo e regolarci il giorno dopo di conseguenza perché ci arrivano le motizie da fuori no sono io a usare il cervello la logica e anche la mia connessione e chiunque mi dica che la mia connessione non va bene perché se io sento le voci dall'interno sono matto ma se le voci dall'interno le sento per le creazioni sistemiche messe in piedi dal mainstream allora va bene sono un santo ci vuole discernimento ma soprattutto ci vuole delicatezza nel declinare certi inviti a conformizzarsi e delicatezza per non dare troppo nell'occhio quando ce ne andiamo come ha fatto Diana dal mondo occidentale che oramai è alla frutta e anche al conto e appunto tanta gente se ne va se ne va dal collettivo se ne va dalla città se ne va dalla situazione di cittadino e diventa che o creano loro strutture ONG religioni culti ecco villaggi vanno in quello di altri l'importante è muoversi perché se rimani dove eri prima fai una brutta fine e direi che le avvisaglie ci sono tutte e poi scegliere dove dobbiamo andare quello ognuno veramente cioè se siamo qua stasera a parlare di questo piuttosto che di altri posti del mondo che non sto a elencare perché ce ne è tanti e che possono essere un'attrazione perché effettivamente ce ne è tante non è che uno c'è solo visoco ce ne è veramente tanti di posti che attirano io un pochino li ho valutati li ho visionati e mi rendo conto che c'è un tempo un luogo per tutto ma per adesso siamo qua a parlare di questo perché è la cosa che più mi risuona e se vogliamo mi risuona da otto anni ce l'ho nel destino prima o poi lo faccio perché lo sento mi riconosco che già in passato ho avuto sentori forti tipo il nord Europa e mi risuonava mi risuonava poi ero predisposto ad andare in Australia e casualmente sono finito qui e ci sono rimasto dovevo starci otto mesi ci sono stato otto anni e sono ben contento la mia vita è andata avanti indietro non mi serve tornarci e dopo qua può essere che qualcos'altro succeda ma di certo c'è che qualcos'altro succederà diciamo che non starò qua per sempre siamo nomadi esistenziali comunque io posso sì io posso anche diciamo così dire che Visoco è un po' un parco delle energie e dello star bene e della di qualcosa che c'è dentro di noi che lo dobbiamo tirar fuori e anche farlo vedere agli altri perché affinché molti si possano anche risvegliare però le energie e lo star bene non è soltanto lì a Visoco è anche in un luogo dove ci sono persone che donano amore con il cuore e dove si vive una condizione di diciamo così di di comunità bella di comunità di comunità dove c'è dove c'è un'espressione che si rende magica dove l'energia la diffonde chiunque va dentro e lì senti un'energia bella lo stesso non è chiaramente quella di quel posto lì però io posso garantire che la senti la tocchi lo stesso ci giri intorno e le persone che non che non riescono ad accettare quell'energia stanno male là dentro devono uscire quindi quando una persona in mezzo agli altri comincia a star male è perché l'energia c'è la frequenza è troppo alta e quell'individuo non la regge esatto quello che stavo per raggiungere il discorso e il pensiero che aveva fatto Cristiano questo movimento che siamo chiamati visto che siamo in questo tempo e siamo presenti responsabili di fronte anche alle scelte verso la vita la nostra vita ma anche la vita di tutti noi come l'umanità e credo che è bene assolutamente fare un passo prima di tutto quello dentro se stessi nell'onestà e nel sentire non solo a livello intuitivo ma poi andare sempre a comprenderci di più a sentire e a conoscere il perché il perché io affinché quel passo sia da uno stato di consapevolezza di pienezza di energia propulsiva verso ciò che si vuole quel viaggio quella scelta verso quale destinazione non da qualcosa che invece è piuttosto di una scomodità di voglia di cambiare di cercare di trovare se stessi ma in qualche modo creando un gap molto grande tra quello dove si è insoddisfatti verso qualcosa come una terra promessa cioè creiamo la prima dentro se stessi e per questo che sicuramente le energie come quelle di tutto quello che chiamate le piramidi bosniache sono molto accoglienti e danno supporto in questa fase anche di trasformazione affinché ciò diviene così chiaro proprio un frutto di desiderio anche del cuore della pancia e la mente che ha il servizio allora siamo pronti a camminare e mi rendo conto quello che abbiamo tutti bisogno sono anche dei supporti come sono i ritiri anche spirituali trasformativi io ho avuto fortuna di aver all'inizio del mio viaggio aver conosciuto Jazz Mokin lei è breteriana da 30 anni ma più che altro una donna illuminata e ho visto il suo cuore ho visto i suoi occhi e io lei già vive una trasformazione e per me era questo così di forte ispirazione ecco così anche credo per tutti noi questo è il punto di partenza e di arrivo essere sempre per se stessi e comunque incontrare quella voce quella perché no quella anche modo per agevolarci in un processo come può essere magari smettere di mangiare il cibo fisico e magari introdurre il prana smettere di fumare comunque affinché sia in armonia e affinché noi ci siamo per noi stessi non cercando di controllare la vita gli eventi le relazioni ma partendo noi proprio questa parte la profondità e dunque dell'autenticità e dunque di alla fine perché no sono in questo stato di gioia perché quello è lo scopo almeno per me la magia la gioia è un po' era quel punto di frequenza che mi ha aiutato molto affinché non ci siano up and down giù e su in questo processo ma qualcosa di naturale semplice anche la mente funzione dell'aleata quando le cose sono semplici non quando siamo troppo poco concreti nel idealizzare nel sognare ma senza quella anche energia che accompagna e penso che vorrei fermare perché ho già preso molto spazio no no parliamo comunichiamo perché già stiamo dando veramente un senso a questo appuntamento solo che tanto non ci si conosce io non vi conosco ma c'è interazione e si sta nutriendo quell'archetipo che è il viaggiatore l'archetipo del viaggiatore è quella dinamica di vita dove si parte tra mille dubbi si attraversano le difficoltà si torna di passaggio a dove eravamo partiti e siamo cambiati siamo evoluti siamo più forti ma è tutto spirale e si va sempre a stare meglio non è prescindibile il non cambiare il modo di pensare di parlare di mangiare perché io posso solo dire che nel 2009 senza neanche perché all'epoca non si sapeva non si parlava non c'era i social nel 2009 non c'era niente c'era poco e niente youtube era appena iniziato facebook era una cialtronata ma anche adesso e io ho iniziato a fare il veganesimo per motivi di interesse di sport di salute di risparmio e ho iniziato a fare il veganesimo tempo un anno ho avuto una crisi esistenziale a 30 31 anni giù di lì avevo una vita bella giovane carriera single casa di proprietà tante attività viaggiavo fidanzate ho mollato tutto perché nel giro di 2-3 anni mi si è rivoluzionata la vita e tutto se vogliamo perché un anno prima magari una coincidenza ho cambiato alimentazione poi sono andato avanti sono diventato un crudista un vegano crudista poi sono diventato fruttariano ora da 5 anni mangio di base solo mele e proprio perché il brettariano non ci arrivo ancora se devo arrivarci in sta vita ci arriverò a volte anche io mi dimentico di mangiare faccio molti digiuni tanta gente tramite me ha imparato queste pratiche tramite la scuola di cui sono reggente e ha abbracciato questa forma di magia che è il nostro corpo che già è un organismo perfetto ci permette la connessione multidimensionale con altra gente ci stiamo allenando Barbara compresa a fare viaggi astrali remote viewing meditazioni profonde e tutta sta roba combinata con una forma di frequentazione relazionale di gente più o meno inclina a noi dove nessuno impone forza alza i toni vende roba come al mercato non abbiamo il Kronos nella vita noi viviamo di Kairos quando le cose arrivano arrivano e stiamo andando insieme parlando appunto anche di la maia negli ultimi 5-6 anni abbiamo fatto varie esperienze dove sovranità alimentazione spiritualità viaggiare e poi adesso è arrivata lì fisicamente io da qua sto facendo la logistica per molta gente stimolo e motivazione per molta gente per assurdo sono stato più fermo io negli ultimi tre anni che tutti gli altri però ho avuto anche una buona ragione per stare fermo e niente quindi capisco che se Diana dice che il cibo ci permette di sentire di più questo sentire di più se sei in un ambiente sporco senti dolore e non è piacevole e allora per forza di cose visto che indietro non ci puoi tornare non ci vuoi tornare a mangiare di nuovo e se mangi male ti intontisci e senti meno le offese all'intelligenza alla vita che i posti sporchi ti buttano addosso ogni giorno quando cominci a mangiare bene poi ti porta per forza l'evoluzione a cambiare vita è inevitabile è un percorso per meno gente ma di più qualità e infatti non abbiamo tante paturnie paure di dire paura di quello che mollo non so quello che trovo se vado a vivere se vado a viaggiare se vado a cominciare a cambiare lavoro perché quello che molli lo ritrovi dieci volte tanto nel posto dove arrivi io qua ho trovato la fidanzata ho trovato una figlia ho trovato amici ho trovato una professione che in Italia quello che faccio da dieci anni non avrebbe mai attecchito non più di tanto mentre qui si può fare e il prossimo passo dopo appunto dieci anni di professionismo a un certo livello e non più che siamo tutti sparpagliati e parlare di come sarebbe bello vivere in natura siamo nel giro secondo me di 3-4 anni forse massimo 5 nel futuro al punto che ci andiamo fisicamente perché Maya a breve probabilmente poi si stabilirà là Diana è già là Gianni Condorinca è già là Gianni magari se già Bazzica poi ci va e altra gente se abbiamo la struttura se ci sarà una comunità una micro comunità ci sarà comunque una nostra struttura per noi anche altri fratelli amici cugini gente che per sentito dire ci vede così felici vivaci attivi sarà più stimolata sarà sicuramente più stimolata perché ci va di fortuna che adesso Visoco nonostante se ne parla se ne sa ancora ufficialmente non c'è niente però impensabile che non ci sia niente con tutto quello che già si sa che già si sta vivendo perché voi siete andati lì sul posto e le energie il posto la vita le opportunità vabbè le opportunità dobbiamo dobbiamo cogliere le opportunità e mi fermo qui bisogna cogliere le opportunità ed essere in uno stato psicofisico in grado di poterle cogliere perché se le vuoi cogliere ma non puoi soffri ed è brutto meglio allenarsi prima depurarci prima e poi che il destino faccia il suo corso io vi devo lasciare per forza perché come avevo già spiegato anche da Maya ho anche un corso da seguire comunque mi fa piacere mi ha fatto piacere anche conoscervi e mi farà piacere ancora seguire diciamo le conversazioni che si potranno fare con voi volentieri grazie molto volentieri grazie della partecipazione grazie grazie ancora piacere nostro ciao a tutti ciao Gianni ciao 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 a tutti ciao vi saluto anch'io e vi ringrazio per aver condiviso con noi e vostri vi saluto a tutti ciao 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 a presto sì grazie volentieri grazie ciao faremo avere a tutti la registrazione tra l'altro a proposito di quanto dicevi volevo annunciare così anche che detto qua che io mi sono messa in ascolto perché da quando sono arrivata qua ho capito che essendo che tutto mi si sta chiudendo da una parte nella mia vita e qua ricomincia la mia domanda dentro di me era sì ma cosa porto io qua ma soprattutto poi mi sono accorta di cosa un po' cosa mi mancava perché sai anche la propria necessità è anche un buon punto di partenza e necessità la dico in senso come dire in senso pulito cioè non una necessità perché questa parola può essere un po' trick che no però necessità io seguo la necessità quando penso la parola necessità vedo una runa per cui il simbolo della necessità per me è molto chiaro non è necessità perché devo soddisfare necessità non è qualcosa che soddisfa un capriccio o è proprio più legato a a qualcosa che vibra abbastanza alto no come tipo di necessità e finalmente ho capito che cosa volevo portare e ho iniziato a parlarne e ho visto che la risposta è sì ok è quello che devo fare a lungo termine mentre chiaramente ci sono i viaggi di accompagnamento per chi vuole conoscere Visoco e questo è un continuum perché si possono possiamo accompagnare le persone con le come armonizzatori guide per aiutare proprio questi processi iniziali che si attivano in Visoco il che è sempre valido ma a lungo termine è anche un progetto a livello culturale che è quello di creare un diciamo è un workshop che va un po' dal teatro alla danza e che produce una una diciamo una piece si può dire come si traduce un beh infine si può avere anche un film tra virgolette un documentario di quello che si crea però l'idea è proprio di portare l'arte è un concetto di arte molto particolare che è basato sull'improvvisazione e andare quindi a creare una una realizzazione che possa paremergere i vari caratteri che fanno parte delle forze che sono qui in Visoco può essere il la persona curiosa la persona scettica lo scienziato la persona che abita qua e ogni carattere creato su misura in modo che interagiscono qui sul territorio è una grande opera a livello di coordinazione però so che col tempo mi piace farlo questa è l'idea quindi di chiamare anche a livello internazionale nella mia idea l'unione con la danza perché così si possano creare si possa creare un prodotto finale che sia più sognante e quindi vai un po' in questa dimensione in cui puoi dire tutto perché poi non è necessario che sia un documentario realistico che porti dei fatti concreti ma è un po' sì come adesso mi viene in mente Sokurof però c'è un altro regista questo dei Cos'è? Bon Granat Cos'è? L'odore di Milograni No Il colore dei Milograni L'odore dei Milograni Uff In questo momento non mi viene la comunque un po' di reference per capire che beh vorrei creare voglio cioè in realtà lo sto facendo quindi non è che voglio l'ho già iniziato ho già preso contatto con Robert Marchand che si occupa di character based improvisation e sto iniziando a prendere contatto con tutti i gruppi di contact improvisation danza per arrivare a creare qualcosa e questo è un'interazione che lega in tutta la città si lega tutta la città sarà una performance con improvvisazioni che si creano un po' in tutta la città e l'ho già fatto quindi io riesco a vederlo adesso non so se riesco a spiegarvelo bene perché poi ci vorrebbe un po' tutto un forse uno zoom a parte ma che comunque faremo perché devo cominciare a presentare questo progetto meglio e secondo me questo è un apporto molto bello perché io credo nell'accatarsi e nella nell'opera di magia che crea anche quelle che sono le messe in scena i rituali le messe in scena è come una costellazione familiare globale se vogliamo dire cioè vabbè per me per come lo vedo io con il modo in cui ci lavorerei io ecco ci lavoro io cioè usare gli strumenti del teatro delle messe in scena del rituale eccetera è potentissimo e quindi questo mi emoziona molto perché ho capito che cosa posso portare e niente questo è un nuovo cantiere all'opera che sicuramente aiuterà anime ispirate a fare il passo di venire qui per vivere questa esperienza di character based improvisation insomma di creare qualcosa insomma un po' dietro alle quinte ci sarà robert in primis con me ovviamente con un po' di che creiamo tiriamo un po' le fila ma di fatto è tutto in mano a quello che emerge creiamo il campo creiamo il campo prepariamo un grande set in tutta la città e questo chiaro sì è un bel progetto che poi veramente chiamerò il primo help il primo prima base è il gruppo base che aiuta alle prime le prime mosse perché comunque c'è un sacco di lavoro di coordinazione da fare perché come tutte le improvvisazioni sì c'è l'improvvisazione alla fine ma se non hai prima creato tutta una struttura una conoscenza condivisa e delle buone vasi ovviamente sarebbe un po' troppo vasta cioè bisogna dare un po' una struttura ma nella struttura sarà una pura improvvisazione et voilà però così l'ho iniziato ad annunciare anche qua ufficialmente e e poi sì insomma va avanti di pari passo a quello che è diciamo costante dei viaggi di scoperta insomma ottimo si crea l'ambiente per poi far crescere quello che verrà dopo buono buono e la base yeah bellissimo grazie sono contenta che apprezzi giovedì ne parliamo assolutamente wow sì perché tanto per per dire cristiano visoco io non so per qualche ragione ho sentito che dovevo ho sentito nominare una persona due volte ho deciso di contattarla e semplicemente questa persona ma devi contattare Diana devi contattare Amai ok siamo qua ci siamo appena contattati è andata così visoce sì è così bellissimo e siccome come sai che il visoco ormai è il centro del mondo perché qui si conoscono delle persone incredibili come te ma anche anche le altre che ho avuto il modo di conoscere come tra l'altro una regista famosa dragana disic lei questa settimana a visoco fino a lunedì oh bisogna incontrare anche lei dopo ci vediamo dobbiamo farlo e tra l'altro mentre parla di questo progetto ci sei tu c'è tutta un'energia che è vibrante che la si tocca con la mano no sì questa è quella che passiamo l'un l'altro no questa vibrazione che riusciamo a creare e poi possiamo condividere con gli altri ecco mantenere queste vibrazioni che ognuno crea wow è bellissimo siamo qua a condividere frequenze vibrazioni esatto e poi personalizzate dalla materia yeah esatto bello grazie ciao 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 buonasera a tutti buonasera parlando da gente che c'è stata fisicamente esatto è una bella esperienza da provare luogo siamo curiosi di sapere dopo visoco dopo visoco è stato un po' non è stata una cosa bella però però l'esperienza lì è stata grande è molto potente le frequenze del posto si fanno molto sentire e e tutto tutto il clima la gente che c'è intorno e l'energia molto non peace and love new age però è comunque la frequenza è quella di pace e amore effettivamente e ogni io adesso purtroppo sono appena collegata perché ho appena finito infatti sono in macchina però la cosa bella è che ogni angolo di quel luogo ha la sua peculiarità e lo si percepisce a livello fisico psico emotivo in maniera differente e quindi ti apre uno stravolgimento a livello profondo che porta sempre buono e anche se a volte questo buono che arriva deve prima scardinare il vecchio e quindi farti far passare un po' delle esperienze più pesanti o meno pesanti secondo dell'individuo però sicuramente merita e vale la pena ci mette di fronte quello che dobbiamo avere di fronte esatto sì sicuramente bisogna lasciare il posto per ricevere le nuove informazioni di te qual è il posto che bello bello diciamo interessante bello è un'altra cosa interessante e da provare sicuramente da fare sì sì da fare sì è vero l'azione è una di quelle cose che che fanno la differenza anche soprattutto quando cominci a capire qualcosa no tipo almeno io noto spesso che a volte non sono in chiaro ma comincio a sentire non so magari solo una direzione tipo oggi era così per me non so avevo veramente dentro di me avevo in chiaro che insomma dovevo andare in quella direzione lì e poi ok vado e tutto si è sviluppato molto bene ma ero quasi così non solo non riuscivo a vedere oltre ma ho seguito quel piccolo indizio e a volte proprio nel muoverci veramente possiamo veramente capire e poi capisci anche se sei andato nella direzione sbagliata perché magari sentivi la direzione cioè per intendersi no però devo ammettere che ultimamente ho ho calibrato piuttosto bene normalmente quando sento dove devo andare è perché sento dove effettivamente devo andare però mi ricordo anche che nel dubbio ho seguito anche delle strade per capire che erano quelle sbagliate perché anche quello è molto importante no cioè anche andare a fare una cosa per capire che ah ok quello è no così dopo ti calibri lì no ah quello è no importantissimo e quindi tra queste calibrazioni quello è no quello è sì si dipana sempre sempre meglio la strada insomma e poi nessuno lo può fare per te se è solo te che lo devi fare perché lo vuoi sei solo a fare questo eh lo vuoi è una parola opinabile però però non possiamo fare altro che andare avanti ossia dentro non c'è nessuna direzione se non dentro di noi l'unica via d'uscita è dentro tutti questi paradossi elementi lineari e non c'è ritromarcia sono cose da fare in prima persona non le puoi delegare sei tu e l'infinito poi questi siamo tutti compagni di viaggio e che noi stiamo parlando di cose inerenti a un'evoluzione interiore che ha delle sfaccettature che si possono vedere fuori ma non puoi parlare di queste cose a chi non sente a chi non vede quindi già noi essendo qua possiamo fare questo discorso ma anche le parole sono limitanti quindi è un sentore Amaya fa presto anche Kondorinka di grande dovete venire perché finché ne parliamo ma non siete qui non potete capire e lo so io lo so infatti io ci sono passato ma poi in generale nella vita erano fatti di cose e ti dico che sì bisogna andare prendere e andare poi a volte si viene rifiutati a volte si viene accolti a volte ci vuole del tempo ma siamo fatti per vivere e dobbiamo vivere non far finta di vivere se stiamo nelle città davanti a un televisore 30 anni in un posto di lavoro siamo fatti per vivere e essere essere meglio essere che fare sì direi che abbiamo disquisito per un'ora e mezza se volete fare qualcos'altro c'è delle immagini da far vedere o no niente tutta roba che già sappiamo tutti mi sa che l'ho condivisa sui social e adesso mi sono accorta che può vedere se si sono scaricate sul computer o no perché ce l'ho tutte sul telefono problema ma quelle statue di c'è cosa avete fatto quelle statuette grassi sembrano gnomi da giardino fatti a mano sì ero praticamente ero lì come volontaria in fila per aspettare i sassi da portare fuori dei secchielli ho visto che vicino a me c'era della della creta e allora ho iniziato a giocare ho coinvolto il mio vicino quindi sì sì praticamente quelle sono le creature di me e Goran che abbiamo costruito con l'argilla e ci siamo divertiti un po' a mostrare tutti i reperti che abbiamo trovato avete fatto dei golem con l'argilla ma così la gente è anche bello perché alla fine hanno praticamente tutti quelli che li hanno visti hanno sorriso tantissimo e questo è anche sai a me piace tantissimo questa è una delle cose che mi piace fare quando riesci a fare quella cosa che genera gioia perché era assurda era ridicola e andava bene così cioè e quindi è stato un divertissement così se l'ho pronunciato bene il francese così sì però mi sa che sono sul telefono mi sa che dovrò condividerle in un altro modo devo vedere però per sicurezza non me non me le ha scaricate qua no ce l'ho sul telefono e questa volta mi devo proprio preparare devo scaricarle dal telefono sul computer e devo prendere il tempo di svuotare il telefono tra l'altro perché è pieno però è stato molto molto interessante partecipare anche in prima linea perché poi avendo anche l'occasione di stare con gli scienziati coloro apparecchi che studiavano è stato cioè sì ti senti proprio in prima linea no quando riesci a osservare da vicino cioè un onore come dicevano perché non hai un privilegio cioè è un privilegio no in fondo sei all'interno di qualcosa che si sta scoprendo ora tanta roba scusate un secondo che rispondo qua vabbè comunque tanto tu le foto le metterai poi su facebook le vediamo tutti non c'è problema e chi altro non so potremmo anche se non ci sono domande altre testimonianze abbiamo fatto le nostre ore 40 facciamo il prossimo appuntamento divulghiamo il verbo creiamo con la nostra pace e ponderatezza un'attrattiva per altri che come noi vogliano non sentire schiamazzi ed entusiasmi di batti mani medita medita lo sappiamo noi cosa dobbiamo fare dentro di noi poi con gli altri possiamo giusto condividere le sensazioni ma sono cose da vivere non da da ostentare chissà in quel posto lì ma lì ce n'è monasteri ci vengono buddhisti ce n'è islamici com'è la storia lì della gente che vive vita spirituale lì ce n'è? allora ufficiale c'è cristiani musulmani ortodossi principalmente le religioni ufficiali comunque che ci sono ma qua c'è parte del parco e dei tunnel sono sponsorizzati da qualcuno che è tipo un guru indiano credo buddista non ho ancora incontrato nulla però io non ho questa grande esperienza cioè vedo che vengono persone per esempio c'erano dei non so se orientali non so dirti esattamente erano orientali che apparentemente avevano una religione perché li vedevo molto cioè stavano molto in un'attitudine tipo di preghiera però non so dirti ma io chiedevo al di là della multiculturalità della gente che abita lì ma se c'è una struttura religiosa o spirituale stabile tipo un monastero un tempio c'è qualcosa al di là di qualche chiesetta in paese cioè dove la gente fa vita di spirito perché in un posto così sarà tutto amplificato chiese moschee ce ne sono per questo ho visto io sì ma sono quelle dei locali cioè sono quelle degli autotoni perché là c'è la religione musulmana soprattutto e un po' meno quella cattolica e prodossa però a livello di altri monasteri o centri spirituali centri di spiritualità di questo genere no no sono ancora indietro in questo ma dipende dove perché noi siamo andati a visitarne alcuni però bisogna uscire un attimo parlo della della zona chiaro io parlo della zona limiter qua che ho potuto vedere però anche andando andando verso Sarajevo no più nord forse beh comunque avviso che c'è il centro molto attivo sono dei francescani ah sì infatti anche la scuola tutto un complesso molto grande si è vero io non l'avevo io l'ho visto infatti era un po' vuoto quando sono passata io quindi mi chiedevo l'attività però è molto grande in effetti ma comunque ci sono diversi centri io non sono andata a cercare però quando stavamo guardando per cercare le informazioni di una chiesa cercavo le informazioni di una chiesa ho fatto una ricerca su internet sulle mappe mi uso una marea quindi ci sono veramente abbazie monasteri moschee non mancano anzi ci sono alcuni con delle mi sembra di aver visto dei mosaici tra l'altro molto molto belli cioè non ho non ho ancora affrontato il tema ma sicuramente ce ne sono noi abbiamo visto questa ne abbiamo viste due una era così era Santa Caterina e l'altra non mi ricordo cosa cosa fosse con Dorinca ma piuttosto grandi cioè non erano piccole per non avere ancora affrontato il tema così a caso ne abbiamo già incontrate diverse quindi non è non credo che manchi ma sono luoghi di culto io chiedevo appunto se c'era gente che faceva vita attiva e non il culto lì lo fa in maniera passiva in diretta quando c'è la festa vanno lì la domenica vanno lì il sabato ma il venerdì per non so mai ma un posto cioè perché ora sembra una cosa da ridere quella che dico ma in realtà importantissima ci vuole una scusa per creare un punto zero e fare una struttura che sia tangibile che sia un inizio un riferimento per tutti gli altri nel mondo che sentiranno quel tipo di chiamata e questa scusa deve essere qualcosa che accomuna i più se metti la se facciamo l'ecovillaggio degli spiriti liberi arrivano gli hippie arrivano quelli che non vogliono lavorare arrivano quelli che scappano dai loro problemi se metti qualcosa di religiosizzante o riferita a qualcosa di religiosizzante anche lì ti arriva quello che ti arriva dovremmo creare qualcosa di nuovo qualcosa di nostro qualcosa di attuale e a quel punto essendo una novità fatichi a farti capire cosa fai e allora ci vuole una cosa che sia recepibile da tutti che sia facile da da imporsi perché che ne so noi amiamo i gatti i gatti tutti amano i gattini se tu vedi il volume di ciò che viene caricato visionato da internet per lo più nel mondo da che esiste nel 93 internet per il popolo sono video roba inerente a gattini gatti gatti che fanno ridere i gatti te l'avresti mai detto dici il sesso no no gatti e facciamo il gattolicesimo creiamo una comunità di amatori dei gatti e mettiamo un gatto sulla bandiera e lì i gatti fanno i gatti che fanno anche nel mondo normale per esempio tu fai i gatti e dici ah lì c'è io voglio essere spiritualmente del culto dei gatti facciamo un culto mondiale e noi siamo un culto ma senza il condizionamento dell'umanismo delle forme antroponorfe perché sennò poi si creano elefazioni invece i gatti li amano tutti i gatti sì anche i cani gli animali tutti sono belli ma il gatto è il gatto e facciamo una struttura regolare riconosciuta così abbiamo le esenzioni abbiamo delle tutele a livello di viaggio di documenti di qualunque cosa e siamo la comunità una religione per motivi religiosi noi non possiamo contribuire essere complici delle puttanate che il mondo fa e farà ancora di più in avanti che si va e ci si chiude a livello di noi per stare tra di noi lì creando la nostra comunità e lì abbiamo i nostri orti la nostra energia free energy tutte le nostre robe abbiamo ognuno la nostra spiritualità perché siamo tutta gente di un'apertura interiore che non va io sono un proto pagano c'è chi ama le piante gli abbraccia gli alberi c'è chi crede all'alieno buono va bene tutto basta che non sia roba creata da altri come la roba sistemica e allora se siamo in questo ecumenismo sano va bene tra di noi non ci saranno mai problemi può essere che qualcuno ogni tanto è un po' più refioso a seconda dei problemi dei momenti ma ci sarà spazio e tempo eventualmente si fa una passeggiata se ne va a casa sua ma sapendo che lì c'è il suo posto c'è il nostro la nostra comunità io dico una comunità per farmi capire ecco con una scemata come un culto dei gatti e la gente va lì perché meno che uno non è allergico ai gatti però per dire è una scusa è una scusa per aggregare quelli come noi e tu devi anche tenere un occhio al mondo con le sue regole con le loro paranoie perché se andiamo lì e facciamo come degli hippie un insediamento abusivo prima o dopo ci rompono le balle per essere armonici anche col comune le comunità locali gli dici noi siamo questi ci costituiamo come dobbiamo fare un ONG piuttosto che un culto e risultiamo che siamo membri di quella cosa a livello giuridico siamo a posto come esenzioni la possibilità di avere gente che va e viene gente che lavora avere la proprietà legale anche di proprietà immobili donazioni ricevere creare fondazioni fare mostre fare gallerie d'arte quelle sono cose che possono tutelare noi come specie di gente come si può dire come tipologia di umani attuali nel lungo periodo perché finché siamo a casa sua siamo come ora frammentati e siamo circondati dal caos e Visoco merita come posto ma il posto di per sé si può andare in vacanza ci può andare a vivere in camper ma se ci devi andare a creare una realtà per cui la gente del mondo poi viene o contribuisce o viene solo in periodi in vacanza tu lì crei una cosa grossa che nel giro di 10-20 anni diventa un simbolo di libertà di conoscenza di cambiamento e nutri il posto e nutri te che ci vivi e ne fai parte e ti senti veramente parte dell'evoluzione perché tanti te dicono l'ecovillaggio l'ecovillaggio ma l'ecovillaggio lasciato a se stesso è solamente un andare a vivere in campagna devi crearti una comunità a livello di internazionalizzazione e di riconoscimento generale e per chi non gliene frega niente chi siete voi che siete tutti strani e fate quello che fate noi siamo quelli gamano i gatti ah sì sì anche noi ci piacciono i gatti ma noi non siamo fanatici come voi è divergente ho già visto il simbolo hai già che mette insieme sì sì mette insieme no perché oggi scherzavamo sul fatto che abbiamo creato un culto perché creando queste due faccine no ma allora un bel un bel vessillo con un gatto blu con una piramide gialla così mettiamo dentro pure i colori della Bosnia dei piramidi facciamo i proprio felici un bel gatto blu con i monopiramidi gialla il gatto no noi dobbiamo creare un posto dove ci sia una forma di scolarizzazione per quelli come noi il mondo di oggi è insalvabile da 30 anni il punto di rontorno l'abbiamo passato da no e se non si se non si fa una cosa del genere tra noi oramai che abbiamo già capito d'aver capito perché ora non sono più sensazioni intuizioni non è che abbiamo vent'anni non sappiamo tra poco sono 50 e io ho ancora 50 70 da stare qui e sarebbe bello stare con i miei simili perché lo vedi tu quando stai con i tuoi simili sul posto che ci si incontra pensa a viverci a livello di comunitari vita comunitaria quello sarebbe appunto una specie di sacralizzazione di quello che diciamo noi perché avremo i nostri posti fare le nostre donate il nostro homeschooling per i nostri figli che se no sono indottrinati dal mondo commerciale devono conoscerlo ma devono comunque le basi perché gli Amish ce l'hanno nel loro scuola noi non abbiamo niente voglio dire gli Amish ma ce n'è tante comunità che si inventano e noi siamo ancora qui a parlare della fava ma lo so che queste cose avvengono e tanto tu sei già lì il destino ti sta facendo fare da apripista e poi qualcuno sul luogo ti conosce ti aiuterà poi siamo tutta gente che ha conoscenze gente che ci stima donazioni arrivano qualcuno ci va a vivere un pensionato con l'euro come pensione ma vuoi che non sta bene lì e se avesse problema Sarajevo c'è l'aeroporto internazionale ci sono ospedali la vita è facile basta organizzarci basta togliere le interferenze fine 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 altro che che tante paranoie però ci vuole questo tipo di organizzazione così è la possibilità di fare funerali di fare lavorare di avere documenti anche magari i passaporti nostri avremo perché anche le restrizioni che potrebbero esserci in futuro se tu sei parte di un punto per motivi religiosi sei tutelato sei tutelato a livello internazionale se invece tu sei solo spirito libero ma risulti di proprietà dell'ente di turno che è lo stato X ma tu dove vuoi andare dire che hai la spiritualità non è certificato domani puoi dire di non averlo di averlo un altro se invece tu fai parte di una realtà del genere allora io pensavo una ONG negli anni scorsi però stavo anche alla finestra a vedere se qualcuno creava qualcos'altro nessuno ha fatto niente chi ha fatto qualcosa ha fatto cose sistemiche e alla fine è quello che mi serve se non me lo faccio io non me lo fa nessuno quindi noi con il nostro piccolo gruppo Aura Fra quando Rinca Barbara la stessa Cristiana siamo tutta gente che il discorso di base è di quello che ci serve per crescere lo sappiamo lo abbiamo ben chiaro nel tempo continueremo a espanderci perché chi 5 chi 7 chi 10 anni che mi frequento ci si frequenta va bene il tempo giusto per cominciare a mettere radici perché sono cose grosse che dureranno aggregarci per bisogno per fanatismo creare mettere tutti i soldi in comune fare un ecovillaggio al volo lo fai ho visto gente che l'ha fatto in Portogallo l'hanno fatto in Bulgaria l'hanno fatto così l'hanno fatto nel giro di 2-3 anni perché avevano la foga però poi sono sono litigato sono ma è finito nel giro di 3-4 anni non c'era più quell'ideologia e noi se lavoriamo bene le cose durano anche perché devono essere autosostenenti e non ci deve essere poi bisogna cominciare anche proprio a capire come si perché se mangi bene non hai bisogno neanche più di tanto di medicine il lavoro è relativo siamo tutta gente che può insegnare le lingue online lavorare via internet chi scrive chi produce roba fatta a mano se spendi pochissimo e produci qualcosa ricevi qualche donazione ma tu vai in attivo tu fai il camping fai roba per turisti ma che ci vuole fai del bene mica facciamo che facciamo robe strane non siamo né satanisti né cose simili noi non ce ne frega niente degli altri vogliamo essere più vicini al naturale possibile e non coinvolgeteci nelle vostre stronzate mondialiste perché noi amiamo i gatti e basta vabbè proprio questo miau 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 basta dai ma sì mi sembra una bella conclusione dai direi che lasciamo così che abbiamo alla prossima puntata con le news e con il TG Bisocco la prossima puntata dai grazie per questo rum grazie grazie a voi che abbiate avete prodotto assieme a noi questa creazione grazie a Diana che è stata Diana o Diana? Diana Diana abbiamo visto il tuo micio prima allora ho mai ispirato e va bene dai buona serata grazie ancora vi farò avere la registrazione ci aggiorniamo appena appena avrete notizie dall'est noi siamo sempre pronti ok o se ci sono cose da comunicare o così continuiamo secondo me le piramidi sono delle grandissime astronavi parcheggiate lì da sé da milioni di anni un giorno poi se ne volano via con alberi tutto quello che c'è sopra allora è meglio approfittarmi rimaneteci attaccati c'è qualcosa di vero in quello che dici può essere tutto chi lo sa sì sì ok ciao grazie prossima puntata ciao 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 cristiana ciao maia ciao 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 a tutti